Ciao a tutti! Oggi siamo su Reaction di Five Nights at Freddy's. Ecco! Lo ricordavo. Questi qua e questo video. Ecco questo detto il nome. Me lo ricordo. Beh, è un vero nome. Beh, sicuramente. Comunque, si schippa. Ok, aspetta. Ok, sicuramente viveva George. E ora sono tutti carini. Ecco i miei amici. Oh, ecco. Questo è il personaggio. È Snow Coon. Rot. Mad Endo. Ah! Book Spite. Siete pronti? Oh! Port Patch. Ecco qua. Ah! La colonnina di pass per... Ok. Per... Ah! Ah! Ecco. Ah! Ciao! Tuoi Foxy! Come stai? Haha! Sta bene! Ok. Allora, vediamo. Ah, non ho ancora. Allora. Allora. Poi, da selezionare. Sigoon. Finalmente l'abbiamo sconfitto. Bravi! Bravissimi! La creazione della festa. Avventura! Bravo! E... Ah! Me lo ricordavo! Ora... Che bei pesci! Ehi, Freddy! Sto pescando! Sì, sto pescando! E questi miei giochi? Eh... personaggi! Per fotografisti! Freddy! Bonnie! Chica! Foxy! Tu Freddy! Tu Bonnie! Tu Chica! Mango! Fai tu Freddy! Fai tu Chica! Fai tu Foxy! Eh... Bla! 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 E bla! È completamente ideale! Ok. Ecco! C'è Mango! Ciao, Mango! Ahoi! E per... Ecco qua! Ehi, aspetta! Non è prossimamente! Allora! Il 19 di febbraio di 2016! Allora! Se il video vi è piaciuto, come di solito, e un mi piace, anche la faccia di Facebook con il dono in descrizione! Se ne iscrivetevi, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video! Arrivederci e bene ragazzi! Sper che Fabi lo vedrà! E tutto il cuore è un vero amore! Oh, Fabi Senpai! Arrivederci! Ciao, ciao! Ciao!